capite? è questo il fatto se io devo pensare a un intanto è arrivato il momento di chiedervi un like di sostegno morale, di sostegno psicologico perché venire a fare un video qui dopo il giramento di palle che ho in questo momento, veramente quindi lasciate un like, almeno così una gioia me la date voi ragazzi e visto che ci siete, iscrivetevi la campanella come stanno facendo un po' tutti oggi in questo periodo tutti si iscrivono al mio canale, lasciano il like e soprattutto la campanella quindi come hanno fatto tutti, fatelo anche voi, tanto non costa nulla quello che io dico però che non costava nulla era impegnarsi al 100% per prendere questi tre punti allungare anche sull'Inter perché ecco, se lo obiettivo, ripeto, era vincere lo scudetto bisogna fare la corsa sull'Inter allora, partiamo dai presupposti che facciamo cross a farfalla non ho visto talmente tante giro oggi non era in giornata difensori Purumili la Salernitana non hanno fatto giocare Leao non si è visto Rebic ha fatto un gol della Madonna però viene oppaccata di quello che potrebbero essere i movimenti di centrocampo che non sono stati incisivi in questa partita qua mi gira un po' il cazzo quindi non ho la lucidità mentale da poter prendere 1-1 no, no, non gli do un botto a nessuno perché questa per me è una partita che sarebbe da dimenticare subito da cancellare da rifare da spengere la play e ricominciare la partita questa partita qua se prendi lo scudetto bisogna cominciare a fare i conti che meno 2 punti l'hai persi qui capisci che la Salernitana è forte sono convinto che qualcuno dirà quello la Salernitana è stata forte no, è che tu hai giocato male se tu giochi male qualunque scala è forte purtroppo Lurano ci hanno chiesto le linee di passaggio noi siamo stati cattivi per poter provare a fare quello che sono le giocate individuali abbiamo riprovato e riprovato una manovra che non ha portato a nessuna occasione da gol quello che potrebbe essere quasi 50 minuti di gioco importanti infatti è arrivato quello che potrebbe essere il gol della Salernitana del 2-1 già il primo gol del pareggio parliamo di ma è quello del 2-1 proprio dimostrazione che tu non c'eri via ragazzi io vi lascio qui in questo video e vi leggerò nei commenti perché non ho parole infatti il titolo sarà non ho parole perché davvero non ho parole grazie a tutti